Young Boys Inter sulla carta una partita decisamente abbordabile per l'Inter ma che nasconde tre insidie veramente pesanti. La prima il campo da incubo assolutamente, la seconda l'allarme infortuni e ci sono degli aggiornamenti anche dell'ultima ora, la terza il tour de force che ci aspetta con la testa soprattutto che inevitabilmente già pensa alla sfida contro la Juventus e non soltanto visto il ciclo di gare che ci aspetta. Per questi motivi l'Inter ha tutto per vincere questa partita, assolutamente sì, anche con un turnover molto ampio ma è una sfida assolutamente insidiosa. Allora ne parliamo in questo nostro consueto format della vigilia, uno dei più apprezzati e più richiesti qui su Passione Inter in cui andiamo a presentare la partita, l'avversario, le probabili formazioni, le chiavi tattiche e in generale tutti i temi caldi del momento in vista di questa gara. Ben ritrovati amici e amici di Passione Interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non lo avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale subito, clicca sul tasto iscriviti, siamo ad un passo dai 70.000, quindi vi aspettiamo. E in vista anche di questo grande traguardo ne approfitto per mostrarvi in anteprima la home page rinnovata del nostro sito passioneinter.club dedicato alla community dei sostenitori di Passione Inter. Trovate tutte le informazioni sul nostro club, la nostra community di interisti da tutto il mondo, per chi è appassionato di Inter, per chi vuole vivere l'Inter a 360 gradi con tanti interisti veri in giro per il mondo e con la redazione e il staff di Passione Inter. Ecco, su www.passioneinter.club trovate le informazioni sia per sostenere il nostro progetto che per entrare a far parte della nostra community. Come sapete, il nostro è un progetto indipendente e ogni giorno vi portiamo nuovi contenuti solo e soltanto perché c'è una community che appunto ci sostiene. Mi raccomando, fate un salto su passioneinter.club e fatemi sapere anche che ne pensate della nuova home page. Qui ora parliamo della partita che poi vivremo con la nostra community anche nel post-gara di Young Boys Inter e perché il campo è da incubo? Partiamo da qua, da questa prima insidia. Ve ne avevo già parlato, se vi ricordate, al momento del sorteggio di questo girone di Champions perché mi è sempre rimasta impressa questa particolarità di questo stadio che, se non vado errato, è l'unico tra Champions ed Europa League. In Champions sono quasi sicuro, ma credo anche in Europa League, con l'erba sintetica. È un fondo, un terreno quindi completamente diverso da quello a cui siamo abituati che crea dei problemi a tante squadre assolutamente. Ricordo delle polemiche da parte del Manchester United, Gasperini con l'Atalanta si era lamentato parecchio perché la palla rimbalza in maniera differente, quindi cambia tutto anche dal punto di vista del gioco, della palla a terra e non solo. Pochi giorni fa ho letto anche un'intervista sulla Gazzetta dello Sport con Vogel, l'ex giocatore che ha giocato tra gli altri anche nel Milan, che presentava questa sfida e diceva l'unico pericolo di fatto per l'Inter contro lo Young Boys è proprio il campo, proprio il campo perché chi non è abituato si deve adattare ad una condizione molto differente. Infatti l'Inter farà la rifinitura nello stadio dello Young Boys oggi anziché da piano gentile come si fa di solito, proprio per prendere confidenza con questo stadio particolare. L'atmosfera è molto calda, 32 mila spettatori da quello che leggevo sono previsti e comunque questa è la capienza dello stadio. C'è un pubblico piuttosto caldo, assolutamente, una bella cornice per una partita europea e quindi spesso qui su questo campo lo Young Boys ha fatto grandi sorprese. Se non erro qui hanno perso Napoli, Juventus e anche Udinese, ma pure il Manchester United qualche anno fa. Mi ricorda per certi versi un po' il Cesena, una decina d'anni fa, che pure aveva sorpreso molti in Serie A con il campo in sintetico, quindi attenzione a questo fattore campo. Comunque, il pallone rimbalza di più, alcuni hanno lamentato anche una, diciamo, differente sollecitazione delle articolazioni a cui prestare attenzione, soprattutto quando la squadra non è al top della condizione come l'Inter in questo momento. Ci si muove peggio, si fa anche più fatica a recuperare dopo la partita, ho letto questo tra le varie polemiche e critiche su questa situazione. È un problema perché si lega soprattutto poi al post Young Boys, come accennavo poco fa, perché l'Inter ha già diversi giocatori non al top. In più, l'aeroporto di Berna sarà chiuso e quindi l'Inter dovrà dormire la notte lì per poi ripartire il giorno dopo. Solo giovedì si rientrerà a Milano, quindi ci saranno anche poche ore e poco tempo per preparare la super sfida contro la Juventus di domenica e non la prepari decisamente al meglio. Quindi anche questo è un fattore da tenere in considerazione, alla luce anche del fatto che ci saranno quattro assenze sicure in questa partita. C'è la Noglu, ne abbiamo già parlato nella giornata di ieri, che salta direi sicuramente anche la Juventus, probabilmente pure l'Empoli nel turno infrasettimanale della prossima settimana, punta a rientrare secondo me col Venezia. Non domenica questa, ma domenica 3 novembre dovrebbe essere la successiva. Acerbi poco fa è arrivato anche un comunicato ufficio dell'Inter, elongazione al bicipite femorale per il difensore italiano, anche lui salta la Champions, salta la Juventus e forse tra Empoli e Venezia lo rivedremo. Aslani non c'è in questa partita, contro la Juventus dovrebbe farcela dopo questa distorsione che ha avuto al ginocchio e resta fuori chiaramente più che dopo il grave infortunio che ha avuto va inserito, va reinserito con calma. La buona notizia almeno è il rientro di Zienischi che dovrebbe essere subito a disposizione per questa partita con lo Young Boys, quindi probabile formazione al momento, ne sapremo di più dopo la rifinitura di oggi, quindi ci sono ancora tanti ballottaggi aperti anche perché devono essere valutate bene le condizioni di tutti i giocatori. Però al momento immaginiamo Sommer in porta e questa forse poteva essere la partita per vedere Joseph Martinez sinceramente che rivedremo magari la prossima settimana tra Empoli e Venezia, oggi per me poteva essere la partita di Martinez, però magari Sommer essendo svizzero magari c'è il fattore casa che potrebbe incidere e si punta su di lui. Bissek in difesa, De Vrij e Carlos Augusto, De Vrij al centro scelta praticamente obbligata, Bissek scelta logica, tra poco ne parliamo, Dunfris a destra anche qua giustissimo secondo me riconfermarlo, Fratesi, Barella, Mkhitaryan e Di Marco, quindi Barella che va a prendere il posto in cabina di regia almeno per il momento e poi vediamo dopo la rifinitura. In attacco Taremi è quasi sicuro visto che è rimasto in panchina nella gara contro la Roma, accanto a lui è tutto aperto, al momento si parla di Lautaro Martinez forse di nuovo in campo per dargli continuità e magari trovare ancora dei gol per sbloccarsi definitivamente. Dovesse essere questa la formazione? Io sarei d'accordo fino ad un certo punto però perché per me questa è una partita in cui il turnover lo puoi fare veramente estremo. Non ci sono tantissime altre scelte in realtà però per esempio Arnautovic ci può stare tranquillamente in questa partita e fai rifiatare anche Lautaro, Darmian stesso per me in questo momento Dunfris deve sorpassare Darmian per cui Darmian oggi potresti metterlo nei tre dietro, fai rifiatare anche Di Marco e metti Carlos Augusto nei cinque di centrocampo con bastoni che riposa giustamente. Lo dico perché parliamo anche dello Young Boys, mi sono visto in questi giorni un sacco di video sullo Young Boys, sono andato a studiarmelo con un sacco di highlights estesi, sono andato su un sacco di siti strani per cercare informazioni il più possibile e ho parlato stamattina con un giornalista svizzero che mi ha dato qualche informazione anche se niente di clamoroso, l'idea che mi sono fatto io, il livello dello Young Boys con tutto rispetto è veramente basso. In Champions League zero punti, otto gol subiti e zero fatti nelle prime due partite, tre gol dall'Aston Villa e cinque presi dal Barcellona, hanno esonerato l'allenatore, erano ultimi nel campionato svizzero e poi lo scorso weekend hanno vinto contro il Lucerna dove gioca il nostro Aleksandr Stankovic e hanno avuto anche delle difficoltà comunque, erano andati sul 2-0, poi quasi rimontati, qualche difficoltà e con questa vittoria comunque sono risaliti, sono al terzo ultimo posto, nove punti fatti in dieci giornate, hanno subito 18 gol in campionato nelle prime dieci partite, in generale hanno una media di più di due gol subiti a partita in questo video di stagione contro un Inter che a livello di gol segnati non ha grosse difficoltà, diciamo che si incastrano delle condizioni favorevoli per noi. Giocano con un 4-3-1-2 tendenzialmente come modulo, le due punte però sono molto mobili, c'è un trequartista Ugrinic che mi sembra un pochino il giocatore più qualitativo lì a rimorchio sulla trequartia, ha fatto un gran gol nell'ultimo turno del campionato, anche il centroavanti Itten con il numero nove, mi ha sembrato delle caratteristiche interessanti da approfondire, magari mi ha sembrato ancora più interessante Monteiro, centrocampista il 77 dovrebbe avere, che gioca come mezzala sulla sinistra, è alto, magro, ma con un buon piede, anche da tenere d'occhio, ecco se volete scoprire qualche giocatore nuovo vi butto lì alcuni nomi, anche se il più ispirato in questa prima parte di stagione mi ha sembrato Darian Males, che forse qualcuno lo ricorderà, è un ex Inter, perché l'Inter l'aveva acquistato nel 2020 dal Lucerna, poi l'aveva girato in prestito Genoa, Basilea, eccetera, poi nel 2023 lo ha venduto definitivamente allo Young Boys, dovrebbe esserci anche una percentuale sulla rivendita ancora che l'Inter vanta, e è un giocatore comunque offensivo, un trequartista, un'ala, che adesso però fa la mezzala in questo nuovo contesto dello Young Boys, spinge molto, quindi per caratteristiche, è di piede mancino ma parte sul centro-destra, quindi cerca molto anche di rientrare per calciare poi in porta, e devo dire che per quello che ho visto mi è sembrato qualitativamente un livello sopra il resto dei compagni, e quindi teniamolo d'occhio, una squadra che attacca con due attaccanti che come dicevo si muovono tanto, cercano di portare spesso quattro giocatori in posizione offensiva, più uno anche a rimorchio, quindi mi aspetto un Inter, diciamo che quando non avrà la palla, immagino che però principalmente l'Inter avrà la palla, però quando non ce l'avremo ti difendi col classico 5-3-2 in fase difensiva, per cercare di recuperare il pallone e ripartire, e loro ci lasceranno tanto spazio sulle fasce che dovremo andare a prenderci. In generale si difenderanno, si difendono per quello che ho visto, con una difesa a quattro che soffre veramente tanto gli esterni e gli inserimenti delle mezziali, se riusciamo a far muovere la difesa perdono spesso i riferimenti anche nei duelli, non sono di alto livello. Non ho visto tutte le partite, lo ripeto, però ho recuperato sei o sette gare con tanti video, e ho contato almeno otto gol subiti su calci piazzati, almeno otto, e solo col Barcellona credo ne abbiano presi tre su calci d'angolo, anche lo scorso weekend hanno preso un gol e anche una traversa, mi sembra, su calcio d'angolo, quindi soffrono tantissimo lì ed è un aspetto che dovremo sfruttare, soprattutto se giocano Bissek e Dumfries, potrebbero essere decisivi anche con i loro centimetri, anche per questo motivo mi aspetto che possano fare una buona partita. Poi l'ideale sarebbe riuscire a portare subito la partita in vantaggio, e magari un vantaggio piuttosto ampio per poter fare delle rotazioni, e magari riuscire anche a far debuttare qualcuno dei giovanissimi, visto che ci saranno anche Berenbrook e Aidu della primavera aggregati alla prima squadra, visto che ci sono tante assenze. Joseph Martinez, dicevo, forse l'avrei fatto giocare, comunque l'anno scorso col Benfica, l'Inter, ma anche con la Real Sociedad in parte, ma soprattutto col Benfica, aveva fatto un grandissimo turnover, con lo Young Boys, secondo me, si può osare sulla stessa falsariga, anzi, il livello è sicuramente differente tra queste squadre. Diciamo che se dovesse essere confermato un turnover solo parziale, la direbbe lunga, secondo me, anche su quello che dico dall'inizio estate, ovvero che il primo obiettivo evidentemente è quello di andare agli ottavi di finale di Champions, arrivando tra le prime otto, per farlo servono 16 punti, questi sono un po' i calcoli che avevamo fatto, prestando però attenzione anche alla differenza reti, perché probabilmente diverse squadre arriveranno lì in termini di punti, quindi la differenza reti sarà fondamentale. Fatemi sapere voi che ne pensate, e vi faccio una domanda in chiusura, visto che mancano Ciannoglu e Aslani, chi deve giocare, secondo voi, lì in regia davanti alla difesa? Rischiereste Zielinski al rientro? Meglio Mkhitaryan, meglio Barella? Voi chi provereste? Fatemelo sapere nei commenti, poi ne parliamo in diretta alle 19.30, dove presenteremo anche le parole di Inzaghi in conferenza stampa, e ne sapremo di più sulla probabile formazione, e vi aspetto su passioninter.club, mi raccomando, la nostra community di interisti, www.passioninter.club, andate a vedere la nuova home page, e supportate il nostro progetto, nel frattempo in descrizione trovate anche il link, per chi ci ascolta in podcast, chiaramente con un alto approfondimento, mentre per chi ci segue su YouTube, vi basta cliccare qui. Grazie a tutti.